buongiorno ragazzi allora voglio specificare sta cosa della squalifica perché è inutile squalificare una persona per poi vederla dopo quando esce girarsi tutti i programmi televisivi perché santo sarà così è inutile fare questo servono delle sanzioni dove quando tu dici o tenesci fuori con questi termini tu in televisione non ci vai più questo serve dar delle lezioni alle persone se vai in televisione e dici determinate cose figuriamoci cosa dici fuori fuori dalle telecamere quindi questo che mi spaventa se in televisione devi essere da esempio per i giovani e per la gente e ora vi spiego cosa vuol dire il termine negro gli americani che lo usavano gli americani quando andavano in africa a comprare i neri per poi portarli in america per schiavizzarli facendoli lavorare schiavizzandoli sempre e facendogli fare i lavori che manca un animale gli animali riuscirebbero a fare quello erano i negri quindi quando si usa il termine negro bisogna riflettere prima di dirlo grazie a tutti grazie a tutti